arianna scusa se dobbiamo giustificare ogni singolo scontrino impazziamo non c'è un fondo cassa che cosa ti ho detto non devo parlare se non sono interpellata se mi dici di fare una cosa la faccio e basta io non sono una stagista di regia sono una macchina una scheggia un furetto e se non mi sta bene me ne vado intanto com'è stato tornare dopo tutti questi anni da un lato come boss schiavi e dall'altro come boss che non possono più dire e fare quello che vogliono controlli intanto complimenti che hai fatto una variazione alla domanda tipo di queste è giusto è giusto abbiamo lasciato il mio personaggio i nostri personaggi erano degli schiavi in questi dieci anni oltre a essersi invecchiati hanno anche fatto delle cose e per in italia noi sappiamo per istinto che se una persona ha successo c'è sempre qualcosa sotto alla raccomandazione e probabilmente alessandro il mio personaggio è stato o vittima o artefice insomma di una deve essere successo qualcosa di veramente grosso per metterlo lassù però poi gli autori sono così cinici da poi far sì che questo personaggio comunque non conti niente alla fine voglio aspettare che loro finiscano per dire poi la verità il personaggio di Lorenzo riparte più o meno da dove l'abbiamo lasciato è particolare appunto il questo 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 rapporto con duccio dove diciamo la sua le sue qualità diciamo di operatore comunque devono rimanere sempre nell'ombra e per lui va bene così è una relazione particolare è che in tre serie un film e nella quarta serie duccio non ha mai guardato né incrociato lo sguardo di alessandro che per lui non esiste mentre rispetto al suo umile servitore che fa le cose che duccio che duccio non gli va di fare cioè tutte e gli ha consentito di fare questa cosa ma lui ha l'illusione di andare avanti mentre la vita stessa ma soprattutto duccio lo disprezza così profondamente che ignora anche lui cioè lui può fare quello che vuole portare la fotografia pertanto non continua a essere sempre quello che non è c'è nulla e finisco nonostante questo duccio ha una successo diciamo nelle relazioni maggiori rispetto al personaggio è uno che conta di più perché è più spreggevole ovviamente si trova meglio nella vita diciamo più a suo agio posso ne schiavo piace un problema di relazione con l'autorità che nei primi Boris era rappresentata da Sergio qui in questo momento lui si rapporta adesso con un'entità che non può sondare non può conoscere la piattaforma per lui è un mondo assolutamente inspiegabile imperscrutabile quindi entra in crisi per quello è normale che sia così ok ma dopo tutti questi anni di esperienza sul set se vi chiedessero di dare un aiuto con la fotografia con il reparto luci secondo voi sapreste fare qualcosa davvero o visto che avete imparato sempre le cose sbagliate perché poi le facevano i vostri personaggi verrebbe fuori uno sbarmellamento e un aprire tutto ti ho visto sta seria o? anche non seria dico seria io la prima cosa che ho fatto di artistico nella mia vita di 17 anni è stata la fotografia ma non la fotografia di Cina la fotografia quella con le pellicole addirittura stampavo quindi da sempre da quando ho iniziato a fare questo mestiere conosco, so che obiettivo c'è che è una cosa importante secondo me per gli attori poi ovviamente immagino anche a Paolo a me questa cosa quando su tutti i set mi ha dato un valore aggiunto perché io vedo che tutto il reparto fotografia appena io arrivo sul set aspetta che io dica la cazzata del momento e io molte volte li faccio aspettare giorni e giorni facendo l'attore serio che non dice niente e poi sparo una delle cose di Dugge no no se non sarei assolutamente in grado è inutile fingere lui gioca molto bene al pallone però può sempre essere la cosa che è non è neanche vero questo anche questo non è vero ti sento di dire grazie mille grazie ciao a voi